Un sabato sera come tanti, trascorso in gruppo tra ridarole stupide e il solito gergo vuoto che esce dalle bocche di ragazzi vuoti. È la sera tra il 20 e il 21 gennaio del 2023. Il gruppetto è composto da Victor Ulnici, maggiorenne da una manciata di mesi, Sara Chierici, anche lei diciottenne e tre minorenni. Il quintetto si trova sopra al parapetto sul lungo Po a Torino, in corso Cairoli, sette metri sopra i murazzi. Victor a un certo punto sputa di sotto per gioco, poi insieme agli amici solleva una bicicletta arancione del bike sharing e insieme la lanciano di sotto. Il mezzo prende in pieno Mauro Glorioso, 24 anni, che finisce in coma. Oggi quel giovane innocente, dopo mesi di ospedale e sofferenze, è su una sedia a rotelle. Tetraplegico, non si alzerà più. Victor è stato giudicato con rito abbreviato, il Tribunale di Torino gli ha inflitto una condanna a 10 anni e 8 mesi per tentato omicidio. Sara Chierici sarà giudicata a luglio, mentre i tre minorenni, già condannati in primo grado appena intorno ai 10 anni, stanno affrontando il processo d'appello. Si dicono pentiti, non sanno perché lo hanno fatto. Ho sputato di sotto, non so il perché, ha detto Victor, che alle spalle ha qualche piccolo precedente penale. Abbiamo poi preso la bicicletta, non era pesante, non abbiamo lanciata di sotto e neppure spinta, l'abbiamo fatta scivolare su un tendone. Subito dopo questo gesto malsano e privo di commenti che possono avere un senso, il gruppo scappa per le vie del centro. Ride, Victor e Sara si scambiano baci. I carabinieri intanto cominciano le indagini, raccolgono le testimonianze e analizzano ogni piccolo e singolo frame delle telecamere di videosorveglianza sparse nella zona. Nel frattempo il gruppo si mostra Spalvaldo, si scambia messaggi, oh in centro non possiamo più andare, hanno solo paura di venire scoperti, amo, sono in para, è passata madama due volte, mi fissavano. Nel frattempo Mauro Glorioso era in ospedale che lottava tra la vita e la morte. Nessun pentimento, nessuno che abbia suggerito di costituirsi, fino a quando i carabinieri sono andati e li hanno arrestati. Da lì la confessione inevitabile, viste le telecamere che li ritraevano durante il loro sabato sera maledetto. Oggi gli imputati chiedono di poter accedere a un percorso di giustizia riparativa, il cui iter prevede sedute psicologiche e terapeutiche con incontri insieme alla vittima, ma la famiglia di Mauro, attraverso i loro avvocati Alessandro Argento e Simona Grabbi, hanno espresso parere contrario. Non hanno mostrato alcun pentimento, ha detto in aula un composto e triste, Giuseppe Glorioso, papà di Mauro. Grazie.